Il Vescovo di Andrea Monsignor Luigi Manzi in una lettera inviata ai presbiteri, diaconi e religiosi della diocesi come suggerito dalla conferenza episcopale italiana ha esortato a praticare la vaccinazione visto che si è trattata di una scelta che ha come valore di fondo non solo la cura di sé ma anche e soprattutto la difesa di un bene comune che è la salute pubblica. Il prelato si è raccomandato anche di accertarsi che quanti a titolo diverso esercitano qualche servizio pastorale e catechistico siano vaccinati e perciò abbiano sempre a portata di mano il Green Pass e si continui ad usare la mascherina.